Concludiamo questa panoramica di alcune impostazioni di accessibilità indagando in profondità quelle che sono le opzioni di voiceover Posso accedere tramite le preferenze di sistema ma questa volta scelgo di attivare le preferenze voiceover con i suoi comandi VF8 Ve le faccio vedere perché ovviamente noi possiamo aprire queste preferenze in un qualsiasi punto, in una qualsiasi situazione in cui vogliamo cambiare qualcosa Le preferenze di voiceover in questa applicazione perché è un'applicazione riguardano tutto il sistema quindi agiscono sull'intero computer hanno una finestra standard con la barra degli strumenti e la barra dei sorgenti che abbiamo visto in tanti altri punti Categorie utility, tabella Ecco, categorie utility e diciamo la tabella dei sorgenti e non c'è bisogno che interagite Verbosità Ok E abbiamo le varie voci Cominciamo con generale E lì setacciamo uno per uno Generale Ok Allora, vo destra Leggi il seguente messaggio di benvenuto dopo il login Benvenuto su OS X voiceover attivo Contenuto Mostra la finestra di dialogo di benvenuto all'avvio di voiceover Selezionato Allora, se lasciate deselezionata questa casella Ogni volta che fate Command F5 Vi compare una finestra che dice Ah, beh, è un tutorial Io la deseleziono Deselezionata Ok Mi basta anche il messaggio di benvenuto Tasti da utilizzare come modificatore voiceover Allora, qua abbiamo una voce molto importante che ci dà la possibilità di cambiare i tasti voiceover Fino 2015 sono sempre stati i famosi control option Con il Capitan arriva la possibilità di metterlo su Caps Lock Un consiglio Siccome ancora tutti i tutorial sono impostati su Voo E molti comandi sono ergonomici in quel senso Io l'attiverei che si attivo su tutte e due Quindi quando voglio lo uso con Caps Lock Quando voglio lo uso con control option Attiviamo Controllo opzione o blocco maiuscole Tasti da utilizzare come modificatore voiceover Pulsante a comparsa E' già selezionato controllo opzione o blocco maiuscole Quindi sono tutte e due Quindi, per esempio, se io adesso prendo Caps Lock Freccia destra Preferenze portatili disattivate Come vedete lui agisce come voiceover Se non è attivo Voo barra spazio attiva la tendina del menu Con le frecce su e giù possiamo scegliere l'opzione che ci piace Controllo opzione CTRL più opzione Blocco maiuscole blocco maiuscole Segno di spunta controllo opzione o blocco maiuscole CTRL più opzione Disattivare le preferenze portatili Configura Pulsante Consenti il controllo di voiceover con Apple Script Deselezionato E selezionerei Consenti il controllo di voiceover con Apple Script Applicazione Finestra Nome utente Campo di testo modificabile Punti locale della tastiera Utili password Mi chiede sempre admin Il mio utente Annulla Modifica impostazioni Default Pulsante Premi modifica impostazioni Oscurato default Pulsante Utility voiceover Pronto Ok Configura Pulsante Consenti il controllo di voiceover con Apple Script Selezionato Perfetto Torno sempre all'inizio finestra CTRL option Function Shift Freccia sinistra Barra strumenti Categorie utility Tabella Generale Giù Verbosità Verbosità Qui ne abbiamo da fare un po' di modifiche Vo destra Voce Selato Pannello Uno di cinque Braille Testo Pannello Avvisi Pannello Suggerimenti Pannello Allora cominciamo con i suggerimenti che è un'impostazione altamente invasiva Vo barra spazio Suggerimenti Selezionato Pannello Cinque di cinque Vo destra Pronuncia istruzioni per l'utilizzo dell'elemento nel cursore voiceover Deselezionato Riquadro Se selezionate e deselezionate questa voce avrete i suggerimenti All'inizio può aiutarvi a deselezionare i suggerimenti che spesso vi danno istruzioni e non vi permettono di captare la natura dell'elemento sotto il vostro mouse Successivamente potete abilitarli giusto così andate più veloci come volete e qua la voce Torniamo indietro con vo a sinistra Suggerimenti Avvisi Pannello Avvisi Scegliamo anche avvisi e andiamo a abilitare diciamo pronuncia testo sotto il mouse Suggerimenti Avverti quando viene premuto un tasto Avverti quando Leggi in testa Pronuncia il testo Aggiungi la pronuncia Quando il testo di stato Riproduci Quando l'indicato Riproduci Pollici Leggi il testo sotto il mouse con un ritardo Deselezionato Riquadro Ecco Leggi il testo sotto il mouse ci permette di abilitare il nostro cursore JAWS Seleziona Leggi il testo sotto il mouse Ok L'abbiamo visto anche nel pannello delle preferenze Zoom Ma qua lo abilitiamo ogni volta che attivo VoiceOver E io sposto il cursore del mouse Leggimi quello che c'è sotto Utile per le finestre che tendono a sparire A non essere intercettate Zero Quattro secondi Leggi il testo Interagisco Interagisco Vo shift freccia giù E abbasso a zero Vo freccia giù Zero 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 Ok Interrompi interazione con cursore Adesso spostando Quando il testo di stato Il cursore Intercetto se ci sono scritte sullo schermo Trackpad Comanda il trackpad disabilitato Torno sempre all'inizio Torno sempre all'inizio Barra strumenti Categorie utili Voce Pannello 1 di 5 E questa volta procedo in ordine logica sequenziale Seleziono testo Braille Pannello 2 di 5 Voce Pannello 1 di 5 Categorie utility Tabella Verbosità Seleziono Voce Pannello 1 di 5 Braille Testo Pannello Seleziono a testo Premi testo Selezionato Pannello 3 di 5 Procedo avanti con voa destra O se voglio saltare la barra dei pannelli E andare subito alla prima voce dell'area di lavoro Faccio tab Avvisi Pannello 4 di 5 In alcuni casi Punteggiatura Pulsante A comparsi E cominciano le impostazioni Come vedete ogni controllo ha un'etichetta di aiuto Quindi portate pazienza e ascoltateli Punteggiatura In alcuni casi Punteggiatura ripetuta Prime tre volte Durante la digitazione pronuncia Parole Durante la digitazione pronuncia Pulsante a comparsa Qua possete Cambiare parole Caratteri Caratteri parole Quando sposti il cursore Questa voce è importante In quanto regola Come si comporta la sintesi vocale Quando usiamo le frecce Diciamo Leggi Tutto Quando passi con il cursore Sopra la parola Il carattere L'impostazione Mac E leggi Sia alla destra Sia alla sinistra Invece Leggi Solo alla destra Del cursore E l'impostazione Jaws Ok Bobbar Questo è il cursore Il comportamento Che conosciamo Sugli screen reader Windows Andiamo avanti Nessuna azione Quando cambiano gli attributi Testo Pulsante a comparsa Riproduci tono Riproduci tono Riproduci tono Quando trovi una parola Con errori di ortografia Questo è molto importante Perché di default dice Errore di ortografia Leggi attributi Leggi attributi Cambia tonalità Cambia tonalità Cambia tonalità Quando trovi un linko allegato Leggi Qua dice cifre Vi consiglio di selezionare parole Io l'ho già cambiato Perché non sono tollerante Lettura di una lettera maiuscola Cambia tonalità Quando elimini testo Cambia tonalità Quando elimini testo Le parole sono separate da Punteggiatura e spazio E più o meno Queste sono le impostazioni Che riguardano Diciamo Il comportamento Del voice over Quando ci troviamo All'interno Di un testo Andiamo a vedere Altri punti Un po' più sensibili Quindi torniamo All'inizio Scendiamo giù Quindi abbiamo Generale Voce L'abbiamo fatto Navigazione Navigazione La vediamo Subito Ci permette Di impostare Come si comporta Voice over Quindi quali sono I gesti per leggere La schermata Navigare la schermata Non è Navigazione Internet Lì abbiamo Una categoria Separata Posizione iniziale Del cursore Voice over Ok Elemento su cui È centrato Il punto focale Quindi all'interno Quindi all'interno Dell'area di lavoro Non all'inizio Finestra Comportamento Grupi Standard Pulsante A comparsa Comportamento Grupi Ci permette Di decidere Se vogliamo Interagire O non Interagire Ci sono Quattro tipi Di Interazione Interazione E a secondo Quello che Scegliamo Una è quella Standard Che ci obbliga A interagire Nell'insieme Degli elementi Quindi tabelle Aria Di scorrimento Un'altra La seconda Ci permette Di non Interagire Poi c'è una Che sempre Ci permette Non interagire Ma annuncia L'inizio Fini Grupi E l'ultima Quarta È quella Che dice Niente Interazione Lo vediamo In un podcast Dedicato Quando studiamo La finestra Perché così Già il concetto Di interazione È complesso Da comprendere Il punto focale Della tastiera Segue il cursore VoiceOver Selezionato Riquadro Questi devono essere Tutti selezionati In modo che I tre cursori Quindi VoiceOver Castiere I mouse Vanno a braccetto Questo è un termine Che usiamo Nel gergo Dei non vedenti Il cursore Il cursore Il puntatore Del mouse E poi Per l'ipovedenti Vi consiglio Di dire Il cursore Del mouse Ma anche Per i non vedenti Perché a volte Ci occorre Cliccare fisicamente Su alcune pagine Web Il cursore Mouse Segue VoiceOver Segue VoiceOver Ok Vo bar Spazio per Aprire il menu E invio Per confermare Poi abbiamo Altri concetti Vediamo Consenti cursore Continuo Deselezionato Riquadro Deselezionate Consenti cursore Continuo Ignora etichette Ridondanti Deselezionato Interagisci automaticamente Quando usi il tasto Tabulatore Selezionato Riquadro Qua A vostro piacere Io normalmente Lo disattivo Deseleziona Interagisci Automatica Perché voglio sapere Se ho interagito Da qualche parte Questo è tutto ciò Che riguarda La navigazione Attiva ricerca Veloce Deselezionato Riquadro Tasto comando Aiuto Pulsante Torno all'inizio Tasto comando Destro Attiva ricerca Veloce Barra strumenti Categorie Utility Tabella Scendo giù Web Web Lo vediamo con Internet Audio E andiamo a vedere Audio Disattiva Audio Effetti Sonori Deselezionato Riquadro Noi abbiamo Tre tipi di audio Effetti sonori Abilita riduzione Volume Riduzione audio Abilita audio Posizionale E audio posizionale Vediamo Gli effetti sonori Sono le arpette Che conosciamo anche Sull'iPhone Trin Drunna Che ci fanno sapere Se voiceover Scende Per esempio Quando fa L'arpetta Sentite qua Abilita riduzione Volume Ha fatto Ci fa capire Se scende Di una riga Se entra in un Gruppo di elementi Se c'è un'area Dove possiamo Interagire Questi sono Gli effetti La riduzione audio Che è abilitata Di default Abbassa Voiceover Quando c'è La musica Quindi Quando Un effetto Si sovrappone Con la voce A volte abbiamo Questo abbassamento Di volume Di voiceover Purtroppo Purtroppo è così Io disabilito Disattiva audio Effetti sonori Abilita riduzione Volume audio Deselezionato Disattiva Abilita riduzione Volume audio Deselezionato Riquadro Normalmente Tengo Abilita Riduzione audio Lo tengo Disattivato Di default E' attivato Abilita audio Posizionale Selezionato Invece L'audio Posizionale Quello che ci indica Destra E sinistra Il tipico esempio E' quando parte Un messaggio E-mail Noi sentiamo Un suono Che parte Da destra E va A sinistra Dispositivo Uscita Default Di sistema Qua Preciso Che Ovviamente Noi possiamo Scegliere Che Voiceover Rimane In cuffia Da questa impostazione Qua Mentre l'audio Di sistema Ovviamente Può andare Sulle casse Del computer O casse esterne Questo è il pannello Dell'audio Bella strumento Categorie utility Tabella Audio Elementi visivi Poi Elementi visivi Per gli ipovedenti Permettano di giocare Un po' Con il corsore Voiceover In questi video Voi vedete Che Lì Dove Diciamo La voce Che sto spiegando È leggermente Ingrandita Si può Fare Da questa Impostazione Qua Corsore voiceover Selezionato Pannello Uno di cinque Ok Mostra Corsore voiceover Selezionato Riquadro Questo è Mostra Corsore voiceover È un quadrato Intorno Diciamo La riga In cui mi trovo Se lo Deseleziono Come vedete La finestra È senza Ingrandimento Posso Ingrandirlo Ingrandimento del Corsore voiceover Cinque Ingrandimento del Quindi È un'area Intorno Diciamo La tastiera Leggermente Ingrandita Leggermente Colorata Piccolo Grande Durante la lettura Del testo Sposta il cursore Di voiceover Su Frase Durante Aiuto Pulsante Ok Poi Simile Quindi Categorie Corsore voiceover Simile a questa impostazione No Possiamo aprire anche Pannello di Dascalia Pannello Pannello di Dascalia Che è deputato Agli insegnanti di sostegno Fant del punto 18 Dimensioni Fant del pannello Mostra pannello di Dascalia È un quadratino Nero In basso A sinistra Che Stile Sottotitoli Fa vedere Alla persona Che ci affianca Al familiare All'insegnante di sostegno Quello che stiamo leggendo Menù Pannello 5D Mostra pannello di Dascalia Selezionare Ok Io normalmente Lo deseleziono Per i filmini Poi Abbiamo Barra strumento Categorie Corsore voice Menù Pannello Il pannello Braille Che fa vedere Quello che si legge Con la barra Braille Il tocco Quando è abilitato Il commander voice over Premi tocco Selezionato Pannello Menù Trasparenza Sfondo Menù Pannello Trasparenza 60% 0% Ok 60 Trasparenza Pannello Braille Tocco Menù Pannello E poi abbiamo Menù Menù Selezionato Quali sono i menu I menu Sono quelli voci Che compaiono Sempre una impostazione Per i povedenti Regola livello V Per esempio VoV Apre questo menu Dedicato Di voice over Che volendo Si può Ingrandire Vediamo Adesso Questa è La dimensione Di default Interrompi regolazione Del livello Dimensione Fan Del menu Voice over Fan Del punto 20 Dimensione Fan Del menu VoV Piccolo Gran Trasparenza Dei menu Di voice Grande Piccolo Fan Del punto 20 Dimension Interagis Imposta Le dimensioni Fan Del menu Voice over Fan Del punto 30 Ok Adesso L'ho Ingrandito Un po VoV Vedete È diventato Un po Più Grandicello Questi Sono Gli Effetti Visivi Per ultimo Andiamo A Vedere I commander Di voice over Giusto Per capire I tipi Di commander Ok E Volendo Aggiungere Un shortcut Di sistema Che può Tornarci Utile Però Un shortcut Di sistema Dedicato A voice over Quindi seleziono Commander E procedo Con vo Destra Cursore Voice over Pannello 1 di 5 Categorie Utili Commander Ok Vo Destra Trackpad Selezionato Pannello 1 di 4 Tast Num Pannello Tastiera Pannello 3 di 4 Seleziono Tastiera Premi Tastiera Selezionato Pannello 3 di 4 Navigazione Veloce Pannello 4 di 4 Abilita Commander Tastiera Deselezionato Riquadro Tutti i commander Quindi abbiamo visto Che c'è Il commander Del trackpad Il commander Della tastiera E il commander Di quick nav Questi tre Sono presenti In tutti i computer E aggiungono Dei comandi Personalizzati Che si possono usare Quando è attivo Voice over Quindi aggiungono Dei comandi Specifici Alcuni Sono già Impostati Di default Altri Possiamo aggiungere Noi Veramente Il numero Di comandi Diventa Impressionante Inoltre Per chi Ha la tastiera Estesa Ci sono I comandi Del tastierino Numerico Ormai Le tastiere Estese Sono un po' Più rari Quindi Cominciamo Con i comandi Della tastiera Ogni Pannello Comincia Sempre Con la stessa Voce Che dice Abilita il comander Di trapada Abilita il comander Di tastiera Ci sono anche I shortcut Di sistema Che ci permettono Di farlo Senza aprire Le impostazioni Di voice over E li trovate Nell'elenco Allegato a questo Articolo Allora Abilitiamo Il comander Di tastiera Comander tastiera Abilitato Ok Ci chiede subito Qual è Il comando Che Permette Il sistema Di comprendere Che stiamo Eseguendo Un comando Del comander Della tastiera Ok Sarebbe Option di destra O option di sinistra Di default E quello di destra Io normalmente Scelgo quello di sinistra Vediamo Quando utilizzi il tasto Opzione destro Per il comander tastiera Il tasto opzione sinistro Si comporta normalmente Ok Default Pulsante Abilita comander Navigazione velo Abilita comander tastiera Selezionato Modalità Tasto opzione destro Modalità A me viene più comodo Quello sinistro Menu segno di spunta Tasto opzione destro V barra spazio Tasto opzione sinistro Ok Comander tastiera abilitato Quando utilizzi ok Default Confermo Ok V a destra Comander tastiera tabella E qua abbiamo i comandi Già abilitati Navigo M Apri applicazione Mail Pulsante Quindi option M Apri la mail S Apri applicazione Safari Pulsante menu Option S Safari T Esegui script di AppleScript Time of die Pulsante menu U Esegui script X Esegui script Ok Voglio aggiungere un comando Che lancia la schermata delle applicazioni Chiamata launchpad V a destra Fino aggiungi Aggiungi Pulsante V a barra spazio Premi aggiungi Pulsante E scrivo L L Ok V a destra Comando pulsante menu Tasto tastiera L Ok V a destra Comando pulsante menu V a barra spazio Non ho interagito Ragazzi attenzione Generale Sottomenu Personalizza comandi Sottomenu Freccia su Per andare all'ultima voce Personalizza comandi Freccia a destra Personalizza comandi Sottomenu Apri applicazione L Apri applicazione Confermo Con invio Browser Interagisci con Acquisizione immagine E cerco Launchpad Infatti Invio L Inserimento alla fine Del testo Campo di testo Modificabile Perfetto V a destra L Tasto tastiera L Una riga aggiunta L Ok Comando apri applicazione La Uncpad Pulsante menu Infatti adesso si faccia Optional Interagisci con griglia Mi apre la griglia Tipica per l'iPhone iPad Che contiene Tutte le applicazioni Si chiama Launchpad E' molto comodo Si può attivare anche con F4 Non è che non abbiamo un comando Per me Optional E' molto comodo Così quando ho anche il trackpad attivo Con VoiceOver Posso usare sempre Optional Queste sono alcune impostazioni di VoiceOver Che possono tornarci utili all'inizio Ovviamente le impostazioni di VoiceOver Si possono anche salvare O volendo Se non avete tempo Se non avete compreso bene Le modifiche che ho spiegato Potete importarli E usarli Già pronti Vado nel menu Apple E intanto esporto quelle che ho fatto File Freccia giù Importa preferenze lisse comando maiuscole I maiuscola Esporta preferenze lisse comando maiuscole E maiuscola Intanto Da qua posso esportare le preferenze Vi faccio vedere come impostarle a zero Le preferenze portatili Reimposta le preferenze di base di VoiceOver e lisse Ok Reimposta preferenze personalizzate di VoiceOver Sottomenu Reimposta le preferenze personalizzate di VoiceOver Reimposta preferenze personalizzate di VoiceOver Sottomenu Attività e lisse Punti attivi e lisse Tasti comanderta Etichette e lisse Tasti comanderta Pronuncia e lisse Tasti comander navigazione veloce e lisse Azioni comander track pad e lisse Punto web e lisse Attività e lisse Ok Quindi qua possiamo cancellare tutte quelle impostazioni che abbiamo modificato E ricominciare da zero Reimposta preferenze Reimposta le preferenze di base di VoiceOver e lisse Invece questa voce ci dà la possibilità di cancellarli tutti in una volta unica Ok Esportiamo Invio Prezzo Prezzo V 2015 Ok V Freccia destra Flic Perfetto In documenti e confermo Così vi Alleggo queste preferenze Al file che spiega le impostazioni Porto in primo piano Finder Screenflow Finder Finder Ok Apro la cartella documenti Command Shift O Documenti Documenti Finestra Bra Pref 4 Click mouse Screenflow Document Pref 5 Pref 6 Pref 6 Pref 8 Pref 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 Documento Utility Pref Accessibili Pref 2015 Documento Utility VoiceOver Mi posiziono sopra il file delle preferenze E eseguendolo posso sostituire le mie preferenze Con un file di preferenze esterno Command Freccia Giù Apri select Interagisci Alogo Alert Ok Pulsante Sei sicuro di voler importare le preferenze Importando le preferenze Verranno sostituite completamente le preferenze correnti Questa operazione è reversibile Come vedete Lui mi avvisa Dice Se tu mi dai l'ok Io sostituisco le tue preferenze Con le preferenze esterni Che stai tentando di aprire Ok Annulla Annulla Default Ok Pulsante Se confermo Categorie Utility Tabella Come vedete Lui sostituisce le preferenze del mio computer E apre l'Utility VoiceOver Tutto qua Fatemi sapere se ci sono domande Come vedete Ciao Ciao Ciao